E adesso, siccome c'è qui un gruppo di miei amici storici, che sono gli Opera Prima, che è una cover band dv, una delle più forti che ci sono in Italia, in Italia ci sono una cosa come 60 cover band dv e loro devo dire che sono delle migliori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.